Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code tra il Bivio con la 11 e Firenze Scandicci e code in uscita a Firenze Scandicci e in uscita a Firenze Sud. Code in uscita a Firenze Scandicci anche provenendo da Roma. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Filippili, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Per la viabilità cittadina a Firenze e per i cantieri della tramvia oggi è in programma la riapertura della corsia di piazza, stazione e lato edifici in asse con via Valfonda. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Muoversi in Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.